Buongiorno, nuova giornata insieme ai Faffi No, comunque ho una situazione di capelli imbarazzante perché alla fine ieri non ho risciacquato l'impacco e anche meglio, l'ho tenuto tutta la notte Sono le otto e mezza, mi sono svegliata c'è anche il mio fidanzato qui, abbiamo fatto colazione ora vado a farmi la doccia perché poi devo uscire e andare a rifare le unghie Buongiorno Tra l'altro mi sono svegliata che pioveva, infatti c'è un clima fantastico doccia fatta e anche il letto è fatto mettiamo giusto un po' di profumino e ora asciughiamo i capelli momento skin care, mi ho messo le lenti non farò nessuna piega perché ho paura che ricomincerà a piovere quindi non sprechiamo il tempo contorno occhi che è quasi finito abbastanza inutile, mi piaceva solamente per queste sferezzine rinfrescanti e poi cremina ho creato un canale broadcast su Instagram mi abbia chiesto il consiglio per le unghie io sono molto propensa a fare un french e mi pare stia vincendo quello forse perché ho truccato i risultati dicendo che volevo fare quello per rifinire blush di Pixi che in realtà questo è nella edizione bronza, non lo uso come blush perché è un po' rosatino lasciamo fare il loro corso ai miei capelli non interferiamo sul loro destino per il momento le lascio così, le ho appena asciugati look total black perché è cominciato a piovere e quindi questo è il momento però almeno fa fresco prima ho finito, dopo ve le faccio vedere alla fine ho fatto il french sta tipo bianco ma poi mi sono vestita così e fa un freddo pane aiuto, cioè tipo tutta l'estate che io non so vestirmi sbaglio sempre un po' troppo caldo e un po' freddo sono tornata a casa sono di nuovo da sola alla fine ho fatto il french sono rosse perché mi ha messo un olietto rosso per le cuticole quindi avevo tipo tutto lo scottex rosso quando mi sono pulita ora devo finire di editare il video di oggi deve uscire tra poco e almeno lo edito, lo carico e alle 14 lo vedrete su youtube intanto qui c'è Nina con il suo nuovo gioco indistruttibile ne abbiamo trovato uno che non riesce a rompere finalmente mi sono cambiata e ho indossato dei pantaloni lunghi per stare in casa sono un po' emozionata stavo editando il video ma sono stata chiamata per pranzo quindi sono andata a fermare per pranzo ho mangiato quel buonissimo pollo al limone perché dovete sapere io ho un odio per la carne mi fa schifo e mi fa schifo il sapore tranne il pollo un tempo lo mangio ora mi disgusta quindi devo mascherare il sapore con il limone però non ho nulla con cui sostituirla quindi quelle poche cose le devo mangiare ed eccoci qui belle tra l'altro manca un'ora la pubblicazione e speriamo di riuscire a fare tutto in tempo ho finito l'editing quindi ora lo esportiamo sono le 13.20 spero non ci metta troppo nel frattempo devo fare la miniatura e l'infobox mi sta dimenticando la miniatura sarà molto divertente perché non ho mai idee soprattutto per i vlog diventa uno sbatti ce l'ho fatta sta anche uscendo il sole ho caricato il video in ritardo di 5 minuti non avevo neanche la miniatura l'ho dovuta fare ora cioè proprio scattare ma vabbè però va bello mi piace ciao 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 ciao